ciao a tutti ragazzi io sono pitbull e sono qui oggi per farvi vedere un altro video su the diesmal riptime questo video si chiama forza della natura come potete vedere io c'ho due zombini qua e li sto prendendo a calci il modo migliore per fare questo obiettivo è buttare lo zombie a terra e prenderlo a calci finché non portiamo l'energia a praticamente bassissima però prima voglio far vedere una cosa allora nel vecchio dei diesmal la forza della tutta una qualche parola sarebbe un attacco di carica nel primo dei diesmal riptile e questo questo attacco ce l'aveva soltanto il personaggio di colore invece in questo dei diesmal ce l'hanno tutti solo che dovete andare nelle abilità ed impostare questa vedete c'è scritto carica voi dovete potenziare questa abilità carica poi per fare questo obiettivo ci sono delle opzioni o portate al massimo la carica e state a mugiarli in continuazione finché a caricarli in continuazione finché loro non vi dicono hai rotto il cazzo mi ammazzo da solo o se no potete chiedere a un vostro amico di prendere un personaggio di livello 1 o di livello alto già potenziato e la carica sarà sicuramente micidiale o se no c'è il metodo che che ho deciso di fare io che mi avvicinano zombie al stile trappola mi avvicino vediamo se ne trovo uno che c'è voglia di uccidermi eccolo qua il primo pretendente sono due addirittura perfetto il sistema che uso io è questo io io mi sono cagato addosso non so voi ma io mi sono cagato addosso allora l'obiettivo è quello che faccio io è salta e do il calcio in avanti in modo che cadono a terra e poi inizio a tagli calci addosso finché la barra di energia dello zombie non si abbassa ogni tanto fatela caricare perché sennò il danno che fate è troppo basso quello è scomodo lo vediamo subito dalle palle vedete questo sarebbe già pronto l'ho aggredito l'ho aggredito ma mi stanno anche aggredendo da chiesa ce n'è uno di troppo ragazzi devo toglierlo ok allora vi allontanate un po aspettate che si rialza e pan glielo date la carica dovete tenere premuto in avanti logicamente il la corsa con l'analogico sinistro premete e corre poi mentre siete in corsa tenete premuto y e lui dà la carica prende pan se vuole analogico premete una volta tenete in avanti poi tenete premuto y da la carica in corso in avanti adesso facciamo quest'ultimo lo prendiamo a calcio sempre finché vedete la barra di energia che è quella lì rossa dove c'è camminatore livello 70 c'è una barretta rossa voi vedete la portata è quasi alla fine che lui sta proprio per morire poi vi allontanate prendete una bella rincorsa giusto per dire di motish fondo ucranio e pronti via a chi lamenta all'occa ragazzi forza da natura obiettivo sbloccato eccolo qua dovete dargli una carica gomitata nei denti ragazzi gomitata nei denti e via quello muore e ciao ciao zombie e con questo è tutto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto che vi siate divertiti e se non vi siete divertiti beh che posso farci scrivetemi ciao ciao ragazzi a chi lamenta all'occa